buongiorno a tutti gianvito d'angelo diretta live dai mercati 8 aprile quello che state vedendo in questo momento è new zealand dollar cioè quello che stavamo analizzando ieri guardate sui livelli che avevamo appunto segnalato ieri il mercato come ha reagito vedete vi faccio vedere più da vicino come reggito vedere è passato da vedere ieri da una quotazione minima di 0 74 37 a i massimi di stamattina intorno a 0 75 26 all'incirca 200 tic è salito questo per farvi capire un attimo appunto aggiornarvi direttamente sulla situazione ma non era tanto farvi vedere quello che è successo ieri perché è più o meno successo tutti i giorni quello che appunto diciamo il giorno precedente quanto oggi volevo focalizzarmi visto le mail anche che mi stanno arrivando i contatti su facebook che mi fanno domande e relativamente a ciò che non bisogna fare vi faccio vedere ad esempio due titoli importantissimi del nostro indice principale vedete il primo è nel green power voi sapete che il nostro indice in questo periodo sta salendo molto è molto ben impostato al rialzo beh guardate negli ultimi mesi che cosa ha fatto è nel green power vedete il mercato è ancora in questo famoso trend ribassista di medio che sta quasi diventando di lungo su nel green power che vedete è in vigore sostanzialmente da quasi un anno vedete da maggio dell'anno scorso ma se io vi faccio vedere un altro titolo del nostro fuzzini enel un cugino stretto si capisce anche dal nome guardate esattamente la differenza guardate vedere che questo trend di medio che era in vigore su nel green power vedete su enel praticamente questo non è in vigore questo che cosa vuol dire vuol dire che devo evitare ecco quello che diciamo in precedenza e all'inizio del video cosa non fare ad esempio è quello di avere la tentazione e quindi di subire la tentazione di voler andare long ad esempio su enel green power perché magari ha perso molto in qualche settore della vita forse questo concetto sarà vincente ma nel trading è sicuramente perdente se io mi rendo conto che un mercato a rialzo due titoli che sono correlati e che in qualche modo dovrebbero seguire l'indice uno uno lo fa e quindi enel è salito molto e comunque uscito fuori da questo canale di medio ribassista e l'altro invece non lo ha fatto è nel green power ovviamente io dovrò puntare in questo caso su enel non su enel green power questo è un concetto ripeto importantissimo su cui mi voglio soffermare oggi e cioè sul cosa non fare piuttosto che esattamente cosa fare il ricordare che non è un non è soltanto farvi vedere se in effetti i mercati vanno dove noi diciamo dove io dico ma soprattutto quello di sapere e quindi di acquisire le gli strumenti per poter decidere noi in piena autonomia esattamente che cosa fare e oggi stiamo vedendo esattamente cosa non dovremmo mai fare se analizziamo almeno due titoli bene questo è tutto per oggi un abbraccio ci vediamo direttamente domani gianvito d'angelo diretta live dai mercati per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure per chi non dovesse usarlo potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione vi ringrazio gianvito d'angelo a presto vi ringrazio gianvito d'angelo a presto